La rubrica Rozzoturi, Catania batte Monopoli 1-0, Catania e Monopoli che si schierano tutti noi con 3-5-2, qua Catania che c'ha vinto centro campo, esposito e fornito con Marchese a supporto di Russotto e Coriale in attacco. Dopo un bello inizio da battere a Monopoli, Catania che ammutta e va vicino al gollo proprio con Russotto che abbia fora di Vicca. Subito dopo però c'è un gollo, grosso di Marchese, sempre Russotto che la tocca, la palla va a Coriale e che abbia Inca. Monopoli poi va vicino al pareggio, cross dall'aria e Zamba passato solo, scascia o pallone. Ammutta ancora Monopoli soprattutto da destra e cross che fanno bene a Giallena, ma tedeschi a Speruglia e tanno fuori i pallone. Ancora poi Monopoli a fare bene uno scanto con cross, tutti i pari vanno a Redi, Trasi, Ricci, tira e il pallone va di Vicca fuori. Il primo tempo spedde 1-0, un secondo tempo comincia senza canci e dopo qualche fase con Monopoli avanti a risponde Catania a quella bella azione di Marchese che fa a furiare la testa dei suoi avvissari. Monopoli poi va vicino al pareggio, sempre con Ricci, palla verso il centrocampo, passaggio a Ricci che tira una boom, fuori, ripicca. 5 minuti di recupero, finisce 1-0, po' Catania. Una bella partita di sofferenza, soprattutto nel secondo tempo, da batteria Carusi. Caperone rinisce a vincere contro una bella squadra. Catania che ora è in vetta a classifica. P-Catania Monopoli è tutto, Uzzutori vi saluta e veniva un appuntamento. Poi la prossima partita del calcio Catania. Buonanotte a tutti.